Ciao a tutti, buon pomeriggio, ore 17.55 di questo lunedì 16 settembre. Brutta notizia che arriva da Paragone.it, brutta notizia che riguarda Conte e Speranza, che se la ridono, come vedete nell'immagine alle mie spalle, l'immagine più chiara per far capire quello che è successo, una brutta notizia perché noi speravamo, speravamo nella giustizia ma per l'ennesima volta tutto finisce in fuffa più totale, perché migliaia di denunce contro Conte e Speranza, la rabbia degli italiani e la decisione shock del tribunale, attento che siate collegati, amici, poi vi dirò tutto, perdonatemi, purtroppo una brutta brutta notizia, ci siete ore 17.56, tra un'ora darò circa le notizie della giornata, tra le quali c'è anche questa, però questa dovevo metterla in primo piano e con una diretta dedicata, Tommaso Croc ha raccontato quello che è successo. Migliaia di denunce contro Conte e Speranza, le ricorderete, ne avrete fatte magari qualcuno anche qualcuno di voi, la rabbia degli italiani e la decisione shock del tribunale, per l'ennesima volta un tribunale, questa volta non ci dà ragione, ci dà contro. Migliaia di denunce arrivate da tutta Italia nei confronti di Giuseppe Conte e Roberto Speranza, i protagonisti indiscussi delle stagioni pandemiche e delle chiusure insistite, degli obblighi vaccinali, del coprifuoco e di tutte le cose che abbiamo dovuto vivere perché loro l'hanno deciso. Considerate però che dai giudici, come sempre, tutto diventa carta straccia, tutte le denunce degli italiani, perché il 4 ottobre, amici, 2023, i media, il mainstream non ne ha parlato, ovviamente, il tribunale dei ministri ha deciso l'archiviazione del procedimento penale verso l'ex premier e il suo ministro della salute, condividendo così la richiesta fatta in merito dai PM che aveva ritenuto infondante le accuse di reato, quindi ancora una volta mi dispiace, devo dirlo, dunque, chi ha sbagliato durante quei mesi drammatici e concitati non sarà chiamato a rispondere delle sue azioni e a prenderla in quel posto siamo noi italiani. L'unico quotidiano che ha parlato della cosa, chi è? è la verità, con Patrizia Flotter e Reiter che sulla pagina delle verità ha fatto questo articolo molto interessante. In sostanza le denunce presentate nel biegno 2021-2022 erano contro i rappresentanti degli esecutivi incaricati della gestione dell'emergenza Covid, quindi oltre a Conte Speranza c'erano nel mirino Lucia Azzolina, che ricorderete, Luciana Lamorgese, Lorenzo Guerini, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Alfonso Bonafede, Paolo De Micheli e Sergio Costa. In sostanza tutte le denunce finiscono in fuffa più totale. Un applauso al tribunale, grazie mille, vi vogliamo bene, grazie e loro se la ridono. Quindi loro hanno fatto tutto quello che conosciamo bene. venivano di fatto contestati i protocolli, l'attendibilità dei tamponi, legittimità del Green Pass, sicurezza dei vaccini e molto altro. Un dossier poderoso e incredibile che però viene scartato completamente dal tribunale dei ministri. Grazie! Fategli un applauso, complimenti amici. Nuovo governo, una certezza. Secondo i giudici i dati forniti dalle autorità sanitarie erano esatti. Mentre gli studi scientifici sugli ultimi quattro anni, proveniendo da autorità sanitarie istituzionali, non possono essere presi in considerazione. Avete capito? E i lockdown, le restrizioni, le chiusure forzate? Si può parlare al massimo di responsabilità politica. Il tribunale ha trasformato per l'ennesima volta un processo in una grandissima farsa. Questo è quello che dice la verità e noi questa volta non diciamo che ogni dubbio è lecito. Diciamo, concordiamo con quest'articolo della verità. Grazie a tutti. Buona serata. Chiudo la diretta con un po' di rammarico. Che schifo, come dice Pino, veramente triste. Roberto, Roberto, ti capisco, ma non si può. Noi siamo quelli buoni. Ciao a tutti. Buona serata. Più tardi, tra un'ora, con le notizie clamorose. Clamorose. Vedrete che notizie. Intanto questa. Che schifo. Che vergogna. Che tristezza. Povera Italia. Ciao. A dopo.